Displasie epifiso-metafisarie Sono displasie caratterizzate dalla presenza di alterazioni morfologiche e strutturali delle epifisi e delle metafisi e come le forme epifisarie presentano un modesto coinvolgimento del racchetto. All'interessamento epifisario si aggiunge l'anomalia delle metafisi che risultano allargate con margini irregolari e dentellati e struttura ossea adiacente a densità ineguale. Con l'aggiungimento dell'età adulta e la chiusura delle cartilagini coniugali permangono gravi deformità degli stretti epifiso-metafisari associate ad un'abnorme brevità delle diapesi condizionante una severa insufficienza staturale. Questo gruppo comprende forme generalizzate come la pseudocondroplasia e l'acroschipodisplasia metafisaria che sono causa di deformità dei distretti epifiso-metafisari e di un'abnorme brevità della diapesi con insufficienza staturale disarmonica. Forme prevalenti alle estremità come la pleonosteosi e forme localizzate come la tibiavara di Blanc che possono determinare deviazioni assiali isolate degli arti. Pseudo-acondroplasia è una condizione morbosa caratterizzata dall'anismo di tipo accontroplasico con alterazioni displasiche dei distretti epifiso-metafisari delle ossa lunghe e in forma minore del rachere. I soggetti nascono praticamente normali e il ritardo accrescitivo si manifesta nel secondo anno di vita. I sintomi principali sono costituiti da tronco di lunghezza quasi normale con accentuazione della lordosi lombare, micromelia risomelica con estremità corte e tozze e dita delle mani brevi, rigidità dei gomiti e delle anche, deformità in varismo dalle ginocchia, intelligenza normale, ritardo staturale grave, altezza della finitiva variabile da 90 a 137 cm con una media di cm 105. L'esame radiografico è caratterizzato da epifisi piccole che regolari appiattite e frammentate, metafisi allargate, deformate a fungo, con margini regolarmente dentellati e struttura dell'osso adiacente alterata, diafisi accorciate ed incurvate, coxabara, ossa tubulari delle estremità corte e tozze, nuclei del carpo e del tarso scarsamente sviluppati, tasca elettrica ritardata, modesto appiattimento dei corpi vertebrali con immagini dell'inguiforme anteriore dell'infanzia, calcificazione regolare nell'adolescenza, parziale normalizzazione nell'età adulta, frequenti deformità atlasiali. La sopravvivenza è buona con insorgenza precoce di fenomeni atrosici, specie all'arca. La sopravvivenza è una malattia molto rara, trasmessa con carattere autosomico dominante. La maggior parte dei casi è sporadica, dovuta a mutazioni recenti. Pseudo-accondroplasia Bambino di un anno La conformazione corporea è ancora nella norma. Pseudo-accondroplasia Bambino di due anni e mezzo Già presente la micromelia rizomerica e la deformazione in varismo dalle ginocchia. Stesso caso A un anno non ancora comparsi i nuclei cefalici femorali, metafesi allargate e addensate. A tre anni già conclamate le tipiche lesioni epipisometafisali. Pseudo-accondroplasia Ragazzo di quattordici anni Conformazione della faccia e del tronco normale Scogliosi Micromelia rizomerica con estremità corte Gomiti e ginocchia semiflessi Ginocchio varo Pseudo-accondroplasia Giovane di venti anni Conformazione corporea normale alla nascita Dopo i due anni Rallentamento della crescita Con esito Inanismo disarmonico grave Stesso caso Estremità corte e tozze Con dita brevi Isodattiliche Che a differenza della condroplasia vera Non presentano il tipico aspetto attridente Stesso caso All'età di venti anni Altezza vertebrale Ridotta Con accenna formazione di gibo Nel tratto dorsolombare Per ipoplasia Nella parte interiore Di alle uno e alle due Varismo del colo morale Radio e dunna incurvati Stesso caso Coxavara di grado estremo Con inversione dell'angolo cervico diafisario Pseudo-artrosi a sinistra Diafisi femorale incurvata verso l'esterno Tibia e perone incurvati verso l'interno Gli stretti metafisari Abbronamente larghi Con epifisi appiattite Stesso caso Fossa tubulari delle estremità corte Metacarti e metatarsi Deformati a rocchetto di filo Con diafesi sottili Ed estremi epifisi metafisari Ringonfiati Deformità simili Ma meno marcate A livello delle falange Pseudo-accondroplasia Bambino di sei anni Cranio normo conformato Ossa lunghe degli arti superiori Tozze e incurvate Metafisi deformate a fungo Epifisi frammentate Scarso sviluppo delle ossa carpali Coxavara Stesso caso Spondili lievemente appiattiti Con lamine limitanti ondulate Ossa lunga degli arti inferiori Accorciate con gravi alterazioni displasiche Delle metafesi e delle epifisi Pseudo-accondroplasia Ragazzo di 14 anni Ipoplasia del dente dell'epistrofeo Platis pondilia cervicale Vertebre lombari o valiformi Stesso caso Scogliosi Diafisi corte Metafisi allargata Stesso caso Varismo grave dei coli femorali Incurvamento del femore Allargamento dei distretti metafesali Delle ginocchia e del piede Pseudo-accondroplasia Giovane adulto Cifosi con platis pondilia Omero varo deformato a clava Ulla corta e radio incurvata Stesso caso Isodatilia con metacarpi e falangi corte Ipoplasia dell'emipiatto tibiale interno con varismo Acroschifodisplasia metafisaria È una peculiare forma di disprasia metafisaria Con severa brachidatilia E caratteristica deformità a coppa delle metafisi del ginocchio Si trasmette con eredità autosomica recessiva Si riscontra la nascita I sintomi clinici sono costituiti da faccia appiattita Scogliosi Micromelia lieva agli arti superiori e grave agli arti inferiori Mani corte e tozze con dita brevi Ginocchi a fresse Piedi corti e tozze Il quadro radiologico è caratterizzato da brachi metacarpo-metatarso-falangia Femere corte e incurvato Metafisi del ginocchio svasate a calice con margine metafisario ad accento circonflesso Nucle epifisari del ginocchio deformati a cugno Gola intercondiloidea triangolare e profonda Esiste ritardo mentale e staturale Acro schifo displasia metafisaria Bambina a 18 mesi e a 9 anni Ritardo mentale Arti inferiori corti con ginocchia atteggiata in barismo e in semiflessione Estremità corte e tozze con dita brevi Acro schifo displasia metafisaria Bambina di 5 anni Nanismo con brevità degli arti inferiori Statura a centimetri 90 Varismo e ginocchia semiflessi Mani e piedi corti con dita brevi Intelligenza ritardata Stesso caso Abnorme brevità dei metacarpi, dei metatarsi e delle falangi Che appaiono massicci con estreme metafisari globiforme Stesso caso Caratteristico aspetto cuneiforme delle epifisi distali del femore Incuneate nel profilo metafisario conformato ad accento circonflesso Acro schifo displasia metafisaria Bambino di 12 anni Una sorella affetta dalla stessa malattia Ritardo mentale Mani corti e tozze Stesso caso Ginocchia semiflessa Stesso caso All'età di 3 anni Stesso caso All'età di 4 anni Stesso caso A 12 anni Anche atteggiata in semiflessione Abduzione Ed extra rotazione Obbligata Allargamento Particolarmente evidente dal lato sinistro Della pinza tibio peronira Stesso caso A 12 anni Dopo interventi ripetuti Di allungamento e di radizzamento Degli arti inferiori Estremo di stare del femore Deformato a fiasco di vino Epifisi tibiale superiore Schiacciata Con piatto articolare concavo Ginocchia rigide Acro schifo displasia metafisaria Bambina di 11 anni Sorella del caso precedente Ritardo mentale grave Ritardo mentale grave Mani corte e tozze Dita brevi Stesso caso All'età di 2 anni Coxa valga bilaterale Diafisi corte e tozze Metafisi del ginocchio Larghe deformate da centro circonfesso Con nucleo epifisario triangolare Possa tubulare delle estremità corte Stesso caso All'età di 8 anni Dopo interventi di allungamento E raddrizzamento Invariato il vaginio del colo femorale Diafisi femorale incurvata E slargata dalla metà inferiore Con epifisi distale Di forma conica Epifisi dibiale superiore Appiattita Con superficie articolare concava Stesso caso All'età di 8 anni Epifisi superiori della tibia A forma di lamina Metafisi larghe e concave Condrodisplasia metafisaria Con epifisi a colo Va distinta Dall'acroschipodisplasia metafisaria Una sindrome Per molti aspetti sovrapponibile Descritta Col nome di Condrodisplasia metafisaria Con epifisi a colo Da Diego Slier Nel 2003 Caratterizzata Clinicamente da bassa statura Brevità degli arti inferiori Limitazione dell'estensione del ginocchio E radiologicamente Da epifisi a colo A questo livello Mani di lunghezza normale E intelligenza conservata Condrodisplasia metafisaria Con epifisi a colo Bambina di 13 anni Prima della correzione Micromelia rizomerica Più grave agli arti inferiori Estremità normo conformate Ginocchia semiflessa Atteggiamento da cavallerizzo Sul radiogramma Coxavara Metafisi femorali inferiori Deformate a conca Con epifisi cuneifoni Epifisi tibiali superiore Appiattite Contenute in metafisi larghe E conca Stesso caso A distanza di due anni Dall'intervento chirurgico Di radizzamento E allungamento Degli arti inferiori Con un guadagno In altezza di 21 cm Permane L'atteggiamento In semiflessione Delle ginocchia Preonosteosi E' un'affezione congenita Trasmessa Con eredità Autosomica dominante Riscontrabile Già nella prima infanzia Costituita Da facce smongoloide Mani corte e tozze Condita in griffo Per accorciamento Dei tendini E restrazione Della polerosi palmare E della fascia Antibracchiare Limitazione Dei movimenti articolari E modico Ritardo staturale L'esame radiologico Dimostra Abnorme brevità Delle ossa tubulari Delle estremità Con irregolarità Delle metafesi E deformità Delle epifisi Preonosteosi Bambino Di sette anni Atteggiamento Delle dita Delle mani E dei piedi In flessione Limitazione Funzionale Della spalla Del gomito Del ginocchio E della caviglia Caratteristico Allargamento Delle falange Tibia vara Di Blount O Osteocondrosi Deformante Della tibia E una Particolare Alterazione Sul tipo Della necrosi Asettica Della porzione Mediale Dell'estremo Epifiso Metafisario Superiore Della tibia Condizionante Un ginocchio Varo Angolare Leziologia Eteroginia Con forme Autosomico Dominanti E forme Autosomico Recessive Il meccanismo Patogenetico Viene attribuito A uno squilibrio Trafabbisogno Nutritivo Dell'osso In accrescimento E insufficienza Relativa Del sistema Vascolare Regionale Predilige La razza nera Si distinguono Una forma Dell'infanzia Primi due anni Di vita E una forma Dell'adolescenza 6-12 anni La prima Più frequente Della seconda La sintomatologia È caratterizzata Da avarismo Progressivo Delle ginocchia Prevalentemente Bilaterale Nella forma Dell'infanzia Unilaterale In quella dell'adolescenza Con angolo Di curvatura Subito Al di sotto Della rima Articolare L'asse femorale E quello Tibiale Giungono a formare Tra loro Un angolo Di 120-130 gradi Aperto all'interno A talloni Uniti La distanza Inter-condidoidea Può raggiungere I 15 cm Non esiste dolore Nell'imitazione funzionale La reambulazione È dondolante Nelle forme bilaterali Claudicante In quelle unilaterali I piedi Sono interrotati E pronati Lo sviluppo Psicofisico È normale Le manifestazioni Radiologiche Iniziali Sono costituite Da irregolarità Della parte mediale Della cartilagine Coniugale E prossimale Della tiglia Con successiva Riduzione Di altezza Della metafesi Sottostante E quindi Schiacciamento Cuneiforme Dall'adiacente Nucleo epifisario E formazione A mensola Della parte mediale Della metafesi L'asse diafisario Non presenta Incurvamenti Dipendendo Il valgismo Esclusivamente Dalla deformazione Della metafesi I casi Non trattati Evolvono Verso Il varismo Definitivo E la precoce Comparsa Di fenomeni Artrosici La prognosi È più favorevole Delle forme precoce Per distinguere La tibia vara Di Blount Dai varismi Del ginocchio Di alta latura È importante La misurazione Dell'angolo Tibio Metadiafisario TMD Formato Dall'incontro Di una linea Perpendicolare All'asse Longitudinale Della tibia E di una linea Che unisce Gli spigoli laterali Della metafesi Tibiale Prossimale Un angolo Che supera Gli 11 gradi Depone a favore Di una tibia vara Di Blount Tibia vara Di Blount Bambina Di 4 anni Stadio Iniziale Lievi Irregolarità Della cartilagine Coniugale Tibiale Nella metà Interna Commodica Ridunzione Di altezza Della sottostante Metafesi Che sporge Più della norma Iniziale Deformità Acunio Della parte Corrispondente Del nucleo Epifisario Tibia vara Di Blount Bambino Di 3 anni Metafesi Tibiale Interna Sporgente Con iniziale Curvamento Dell'osso Sottostante Tibia vara Di Blount Bambino Di 3 anni Metafisi Mediale Della tibia Deformata Mensola Con evidente Varismo Sottometafisario Tibia vara Di Blount Bambino Di 4 anni Forma Conclamata Con grave Deformazione Metafisaria E varismo Estremo Nelle forme infantili L'intervento Di elezione E l'osteotomia Valgizzante Tibiale Sempre preceduta Dall'osteotomia Regezione Del perro Esistono Numerose Tecniche Le più usate Sono L'osteotomia A cupola Di Langen Schuill L'osteotomia Di Gregosievix L'osteotomia Di Stören L'osteotomia Di Sasaki L'osteotomia Di Roy E l'osteotomia Di Valdiserri Tibia vara Di Blount Osteotomia A 5 anni Recidiva Reintervento A 10 anni Controllo Clinico A 13 anni Tibia vara Di Blount Ragazza Di 15 anni Grave Varismo Tibiale A malleoli Ravvicinati La distanza Intercondiloidea È uguale A 30 cm Quadro Clinico Prima E dopo Intervento Chirurgico Correttivo Tibia vara Di Blount Bambina Di 4 anni Con l'inizio Della diambulazione Varismo Bilaterale Ingravescente Dalle ginocchia Stesso caso Correzione Della deformità Dopo intervento Di corticotomia Tibiale A cielo chiuso E osteotomia Peroneale Buon risultato Clinico A 3 anni Dalla correzione Chirurgica